Adesso quella maschile Allora, finale, quinto, sesto posto, lonate, locate C'è una casa in cui lonate non è finita in finale? Bravi ragazzi Quindi l'onate locate per il tiro al quinto, sesto posto Emozionantissimo che l'ho messo, eh? Le griglie vanno, c'è della corrente al palazzotto E questa è tanta roba, siamo già contenti così? Vabbè, mi vai a accendere i fari che non so dove sono, grazie Ciao Ok Allora, adesso partiamo in seguito con il maschile Ragazzi, con tutti i tempi del caso, eh? Non c'è fretta Allora, ricordo che vedere la finale tiro alla fune maschile Tanta roba, vederla con una birra in mano è ancora meglio Giusto? Quindi i nostri birra hanno finalmente la corrente E quindi siamo quasi vasti Allora, adesso partiamo in seguito con il maschile Allora, adesso partiamo in seguito con il maschile Allora, adesso partiamo in seguito con il maschile ISH Allora, adesso partiamo in seguito con il maschile Allora, vi spiego con i ventenni di questa casa, ci iniziano i finali, il Stamicato si riunisce, dai due conti velocissimi, io faccio il ringraziamento a tutti quelli che mi hanno sopportato e supportato per tutta questa domanda e a me e a tutto quello che ci gira intorno, e poi ci diciamo a chi ha vinto, a chi ha perso il palio, cioè a chi è arrivato il sesto, quinto, quarto, terzo, secondo e prima, ricordiamo che, e quindi capiremo chi l'anno prossimo potrà organizzare il palio, e mi auguro tanto e tanta fortuna, e soprattutto, ricordiamo che in nessun caso potrà essere venegoso, venegano, non potrà più organizzare il palio, e questo mi aiuta a sopravvivere sui miei migliori. Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti